Un contratto con allotment è sempre una scelta molto importante e va ben ponderata prima di prendere una decisione. Un allotment comporterà la riduzione dell'inventario sino a una certa data, che potrebbe influire positivamente o negativamente in base alla stagionalità. Come si comporta quindi un tour operator? E come ci si regola in fase contrattuale? Sono Federico e te lo spiegherò fra poco. Ma prima, sigla! Nel contratto con un tour operator la struttura si impegna a garantire la disponibilità di un certo numero di camere. La quantità di camere può variare durante il corso dell'anno, così come può variare il prezzo, che è normalmente netto per l'hotel in base agli accordi che vengono presi al momento della stipula del contratto. Tutto questo avviene normalmente qualche mese prima dell'inizio effettivo del contratto. Ricorda bene, i contratti sono a valenza stagionale o annuale. È un impegno importante! Nel corso della stagione il tour operator vende queste camere attraverso i suoi canali e di volta in volta o periodicamente comunica il venduto alla struttura. Le camere rimangono a piena disponibilità del tour operator fino a un certo numero di giorni prima della data di arrivo, detta release. Anche il release viene stabilito in fase contrattuale e può variare in base ai periodi dell'anno. Normalmente vengono previsti sconti per soggiorni piuttosto lunghi o per prenotazioni effettuate molto prima di una certa data o anche nel caso nella stanza ci siano più persone. Il prezzo può essere per camera e colazione, mezza pensione, pensione completa o all inclusive. Questo ovviamente dipende dalla tipologia di struttura. Questo è molto importante, nel corso dell'anno la struttura deve considerare le camere in allotment come venduto e regolarsi di conseguenza. Il cliente che arriva in hotel dovrà saldare solo eventuali consumi extra perché ha già pagato al tour operator l'importo del soggiorno e sarà il tour operator ad inviare gli importi alla struttura dopo aver ricevuto le fatture. A questo l'avevamo già detto però è bene ricordarlo. Non sono possibili grandi cambiamenti contrattuali nel corso dell'anno anche se recentemente sono aumentati tour operator che permettono alle strutture di variare online i prezzi delle camere. L'aspetto da tenere sempre presente quando si stipulano questi tipi di contratto è che se sono davvero convenienti e ci aiutano nei periodi nei quali abbiamo bisogno. Come sempre si tratta di scegliere il canale migliore. Grazie per avermi seguito sin qui. Se il video ti è piaciuto clicca like e condividilo con colleghi ed amici. E mi raccomando clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle novità del mondo del revenue. Un saluto da Federico e dal Franco Grasso Revenue Team.